Edoardo Donnamaria canzone Si intitola il cielo stanotte questa canzone, questo singolo di cui già vi ho parlato in qualche video fa e oggi torno ancora a parlarvene dicendovi che è una canzone frissantina, perfetta, aderente a quello che è Edoardo un ragazzo semplice, umile, frissantino al punto giusto che va a dedicare la canzone in questione alla bella e simpatica Antonella Fiordisi un rapporto idilliaco, azzardo a dire, un rapporto ben collaudato, nato nelle quattro mura del grande fratello Vip dove entrambi, sia Antonella che il buon Edoardo, per l'appunto, si sono proprio conosciuti e da dove proprio è nata la storia d'amore, la liaison, la love story una love story che non perde occasione di manifestarsi e vi ricordo che, a proposito di mali lingue, per sotterrarle vi dico che stanno insieme e siamo oggi al 22 aprile 2023 oggi è 22, non si sa mai quello che accadrà, quindi non specifico finora allora oggi stanno insieme, quindi Edoardo e Antonella stanno insieme e se ne vanno ancora una coppia affiatata nonostante quegli alti e bassi, quegli screzzi che ci sono stati proprio all'interno della casa più spiata d'Italia la casa del grande fratello Vip insomma, per farvela breve, è una canzone di pianamento e chiabile frizzantina al punto giusto, usulare dove comunque Edoardo dedica all'amata ragazza una epica sonorità diffusa in una maniera completa angelicata, autentica e soprattutto, sorprendentemente, meravigliosa e travolgente frizzantina, e questa è la parola chiave della canzone frizzantina il frizzantino si sente, soprattutto nel ritornello quella tu mi tendi la mano il penuto più e più volte con quella sonorità, a quel livello lì raggiunge l'apice del successo grande, bravo Edoardo bella Antonella perfettamente piacevole e gustabile il video termina qua iscrivetevi, commentate voto 9 per una canzone veramente fascinante grazie a tutti grazie a tutti